I numeri uno, chiamiamo noi, allora il numero uno della scuola Cecconi, numero uno scuola Cecconi, qui da noi. Allora, numero uno scuola Cecconi, eccolo. Allora, Simone, numero uno scuola Cecconi, tieni il testimone, aspetta qui da me. Allora, il numero uno della scuola di Via Merope, Via Merope numero uno. Ecco la scuola di Via Merope, i due numero uno della Nino Manfredi, Nino Manfredi, i due numeri uno, Nino Manfredi, due squadre, due numeri uno. Nino Manfredi, due squadre, due numeri uno. Ciò vediamo meglio, vai a Saffetta. E desideri il numero uno di Via Merope, il numero uno di Via Merope, il numero uno di Via Merope, eccolo. Nino Manfredi, il numero uno della Sacra Famiglia, il numero uno della Sacra Famiglia. Buonissimo. Giovanni Paolo II, numero uno della Giovanni Paolo II, eccolo. Attenzione, l'Anna, Franza e Cieli, sono tre squadre, tre numeri uno. H, E, mi manca H, E, E, T. Ok, dovrebbe mancarmi Via Coltina, numero uno di Via Coltina. Ci siamo, due minuti alla partenza.